Stop allo sci anche in Trentino, di Federico Biffiniandi. Anche il comprensorio Dolomiti Super Ski ferma gli impianti e il sistema turismo perde un mese di lavoro, come racconta Michael Costa Molling dallo Sport Hotel Panorama di Corvara in Badia. I prossimi giorni li chiudiamo noi, anche perché oggi non è ancora ufficiale, però domani gli impianti hanno l'ultimo clienti, poi se ne dovranno andare. Quali effetti avrà questo sui vostri bilanci? La stagione andava da noi ancora un bel mese, perché noi chiudevamo dopo Pasqua e questo avrà sicuramente un effetto negativo sull'indice di fine anno. Molti turisti dunque non potranno venire. Come vi comporterete con le caparre? Noi cerchiamo di restituire le caparre, oppure di trattenerle per un altro soggiorno, sia per l'estate che per l'inverno. Grazie. 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 Grazie.